e bello a tutti bronzine e bronzine siamo un nuovo bronze time ed oggi questi ospiti speciali presentatevi da soli no no ce ti fa la lista dico troppi un ride vincenzo la notte canzoni ma come sti canzoni basta con canzoni ragazze sempre siamo 5 se mette canzoni qua e uscire con mar di testa non arrivare il tuo lavoro ok il mare questo è quello diretta ma un minuto e c'è ancora grado si scrive vincenzo a casa sua ma non gli altri sono affegati minuto 1 2.3 non stiamo a 5 però a me sta un attimo 30 giornate merda e fortuna stream a star che ragazzevo 200 credo che le rote oggi è una scommessa se fanno male la scommessa fa che però siamo sempre dispari e iglesias sigart allora adesso io faccio una scommessa ok chi chi perde tra di noi nico devo fare un pochino a murray perché non ci sto lì e questo qualcosa ma perché ho usato lì al chitlin anche di apri ragazzi e preventiva è partita lì al preventiva è tornato nel dubbio non abbiamo visto i nostri c'è club jungler vincenzo quindi gli altri ce li fa la la cosa va bene va bene manu come c'entro al bronz time e andata l'ex 2 di sono carichi questi bronzi davanti al nuovo ragazzo ma già non ha item ragazzo jacks jacks non lo ha shoppato perché giustamente ha detto risparmio dopo e dopo un po' difficoltà però lucia fa tu vuole dimostrare la riot che ha bisogno victor andato ma non l'ho sottofasso sento lo stringo ma c'ete ragione rega sono un pagliaccio scusate ma non mi potete mutare ma la gente ma cosa ne ho accorto c'era talmente tanta confusione c'era talmente tanta chi è l'eroe di oggi e oh oh è partito a frecce e lei gli sparra non ce l'ha si ce l'ha sono un po' decisi si è salvata la prima kill ma è singola mia ex e vabbè aspetta che se fidanza ma c'è chi reni siamo murray di nico i ragazzi amico non lo so qualcuno la nonna se volete la nonna di vincenzo buonasera a tutti ciao gretina attenzione guarda lo nostro eroe si va aggressivo io putto sull'euro nazionale ragazzi per me quindi fermi per la chat vabbè hashtag team red team blu noi siamo squadra blu io squadra blu ma perché contro di me vincenzo squadra rossa alle 4 squadra blu la grande combo di gragas team red team blu team red team blu team red bull e infatti ragazzi lo chiede la sponsorizzazione a red bull così faccio team red bull o team e vero si scopri e l'ho appuntato tutti noi vabbè 3 il mio uomo 4 oh oh una volta era la nonna di lamo adesso c'è il flash di lato intanto non ho il pollo ragazzi c'è poco i cioccolatini al liquore che sto a boうん prendi la ragazza di kirenis ma di no di staschi comunque 1 4 3 ha visto i video di kirenis questo se lo prende no salta salta se ne va se ne va dico che cazzo urli si che toglie il mano è quello che ti fa male che Niko è il team red è che t'ha fregato che c'ha il doppio buff quindi tu non sapevi ah Niko sei tartonico ho scoperto se sei tartonico è diretta a streaming Nello spara c'è tutto qui muta è mutata è mutata a 300 Niko si toglie la maglietta ma è una ragazza ma sono tutti italiani è italiano graga attenzione ci li va il taunt e tagli stai bambini è main comunque è main è main è feger mid però il nostro caraga io dico che è main è main Lello spara sono carichi questi bronzi è Lello ma è delicato a giocare ma è delicato a giocare ma è delicato a giocare cosa è una meme è un bar il support italiano chi è l'ero nazionale il nostro mid ragazzi ma non ci sta la camera mettiamo dopo ragazzi ti l'ho detto ci sono tre regole per farci mettere la gamma durante il bronze time e non ne avete attuato manco una la prima quale erano? era donna nonna che sta per crepare o dacci la vostra nonna ricca che sta per crepare oppure andare dall'ex ragazza a fare un video mentre gli urlate sono carichi questi bronzi davanti al nuovo ragazzo e il terzo qual era? costruire i castelli e costruire i castelli dei sabbi a forma di bronzo bella momossi col è giusto per che non senti cucina bene ma quando hai solto l'altro il po' oh la cacca di Kled attenzione le ghost mi sembra come come va a fare il solello spara non ci credo che trino la quarta esco il cazzo scriverà mio dio ragazzi tanto piccola vado a cena ci sentiamo dopo piccola ma te vai cazzo invece te leggi me ragazzo chi esce con la nonna piccola mamma mia posso partecipare quello costa ogni volta che rischia le volte perché non lo ho la si non 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 ti preoccupare non caga chiedano chiedano come si chiamano come ti chiami salutavo tutti siete troppi sono ma il sono ubriaco di gragas lol allora prima ho scritto sono cari questi sbronzi c'havo ragione pure masca no ragazzi oggi non è sono carichi questi bronzi sono carichi questi bronzi perché gragas l'unico non spettato e non sa neanche adesso a brontà in me obbriano infatti lo vedo un po di ciò oh la sorpresa riescono a missa tutto con tutto che non se l'aspettava e poi se la portano a casa però ciao charlie intanto ragazzi siamo 300 dai che arriviamo a 300 mancano soltanto due 100 video di kiramish voglio sentire commentare carlotta carlotta ci ha abbandonato carlotta parla partecipa stavo pensando alla build di gragas che c'è la ragazza di prova c'è un sacco di rubini di cristalli e pietro di gioia non lol ragazzi 315 ci siamo arrivati un applauso una cosa che stai controllando che cosa stai controllando dove abita carlotta non esagerare attenzione lui lui lo spara guarda lì a non si ferma arrivato come sparare la presa la presa 10 il sangue vittorio staschi se arriviamo a 500 il prossimo bronzello fate doppia i due nico si neanche cacciate la via porta assolutamente un quarto di vita è fatta è fatta 7 a 4 11 chili la 9 minuti intanto c'è gioco un lavoro di almeno uno stai messi a metallaro e ragazzi prima è una sorpresa a sorpresa aver fatto ogni volta una volta al mese a mort ogni 3 non potrete mai saprei saprei sapere saprei un rap fa freestyle freestyle o le drago si ragazzi oggi sono carichi questi sono carichi dai dario è a prassi sono carichi questi è partito subito il flash contro di tutto guarderesti rapporto che ho scritto che schifo matteo si gatti la pregata guarda quest'altro che prova ad ora è un po' ubriaca pure ad ora è ubriaca stasera continui ping fight o un perché non fa la cucina q sono sbronzi questi carichi tazze bucchier uno lo sostiene un pugnale di spalle perché guarda lì legge la chat e guarda regasta cercare legge la chat quella è quella internet esplorera visto per cosa nello spara stanno chiudendo già vanno ancora ulgari le sfide anche lui l'ha visto lì al di valia per sicurezza perché sta quando sono erobati tutti guarda l'upperato guarda l'upperato il nostro ragazzo di blu però a casa sono cinque biscotti è mortale sono con cinque biscotti rimane l'euro ma non è una questione non è che si ti fa la squadra perché sa che vince si ti fa la squadra perché tu apri quella squadra cioè ad esempio io amo il più grosso una donazione ragazzi attenzione l'euro alis esci lei ha donato un euro ragazzi cosa niente prendici c'è stata appena adesso una proposta decente che c'è lui ha donato a me perché è da una delle due scille non lo so perché però a me va bene ciao zelta ha donato assai almeno perché altrimenti si ha donato mi ha donato 300 euro bene bene quello che non dovranno a me attenzione ci va oh se lo porta oh è bellissimo oh no bravo marco sei una merda che tipo seria mamma mia guarda guarda voglio lo rifare ragazzi oh io voglio far notare quanto è migliorato il nostro elzist cioè è migliorato tantissimo oh ti ha provato l'ha preso l'ho bufato l'ho bufato eh muoio male gli ho detto è una ragazza del gruppo di telegram ciao alis alis esci ciao questa alis ma se volessi fare un bel scrubberino oh attenzione aspetta che prima c'è il pallino mid ti ringrazio mille per il pensiero purtroppo non c'è il il tasto sub manca poco ragazzi il tasto sub mi dispiace dovrete aspettare per il sub ma non aspetta questo invece si se ne va pure la storia da tua amica forza a sfidare il destino oh l'ha fatto oh abbiamo detto che era migliorato porco 2 amocufata l'hai emozionato troppo secondo me è emozionato ma a me c'è il post time di sottofondo c'è il post time di sottofondo secondo me sta a sentire se l'ha casato se l'ha casato ragazzi siamo 351 mancano solo 149 a 500 oh 365 no stavo messaggierà a 500 ragazzi spogliarello in diretta di chi? di Dario di Dario di Dario di Dario fa lo spogliarello in diretta mamma mia video guarda se ne va a scarle non Kled no a albron's time ragazzi nuova regola albron's time è che è Kled che se ne va come è bloccato io l'ho venuta vabbè ah se si è scutato se l'ha scocchiato non è lì oh l'ha fatto ma chi sapeva che sarebbe morto comunque è un effetto scenografico le kill hanno già superato i minuti come questo cosa guarda col volante da playstation la curva larga si ritrovò in una parete oh 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 ma no se continui a fatti i numeri te la tanna breve su ragazzi l'importante è eccedirti ma pure se non me la danno ma chi se ne importa a storia d'avviso a storia a storia a star c'è la star l'importante è che ci l'importante è che ci dire pure se non vada dico lo capisci il che ti amo lo capisci guarda chi è Che è, olè, rientra dentro Secondo me stanno a giocare due Il fratello buono è quello scarso Gli fa senti, vabbè, ti ho recuperato a più E me, da morire i giocatori Ragazzi ragazzi lo aggiungiamo Forza Ragazzi io soffio senza voce C'ho un mar di testa Stiamo quasi 400 Allora a 400 che cosa facciamo? A 400 Ragazzi noi non stiamo cenando Per fare questo bronze time Oh la maestrina pure La cosa bella è che loro non lo sanno che li stiamo aspettando Solo le eroe, rip e Carlotta Carlotta Oh l'adorazione Alice non lo sci Così continuano a donare Ma solo una partita ragazzi Botta secca Alice io te ringrazio per essere una ragazza che nulla esce Perché io così Già me l'ha fatta due donazioni Non le ho sci mai nella vita E continua a venire in questo streaming Allora Oppure esci dal top donatore staserata Però esci c'ho cena Mamma mia Cena con camerieri Perché non parli? Devi parlare di più Io cucino regà Faccio due panini Esci le fritturine Due fritturine ragazzi Due cose Questo sta a continuare a beve sto Krakas Anche se dici cose inutili Dille perché sentono una voce femminile e si gasano Capisci? Questo è il coronavirus Qua c'hanno gli ormoni a mille Un'altra donazione Attenzione Uno euro Grazie Sfibrolo Apprezzatissimo Grazie mille Regà è partita Un drago 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 Stavo già a farlo adesso Sono partiti Attenzione Coist Il taglio Se ne va a piede Se ne va pure l'altro Il capetto è di me Stavo fatto quello Era tutto calcolato Era tutto calcolato Lui ragazzi Sta tornando Attenzione Guarda chi sta chiusa Scappa Oddio c'è prova Oddio Scappa Che cazzo Stavo sul cazzo Giorgio Cerca di distagliere l'attenzione Guarda Via 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 Che cazzo Scrivi C'ho un martedetto Che sto per vomitare Un'altra donazione Bravissima Bravissima Continuare a uscirle Ma che cazzo Ma che cazzo è Alice Non lo so 400 Sì A presto Abri Dai Dai Mi Dai 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 mai te giuro di reis poi lo spieghiamo di stavarire così te preoccupa grazie urla sono cari questi progetti ma domande poi scopri cari si è fidanzata fu di star è meglio meglio importante non scoprono chi sta donati no però pensano guarda il pubblico penso di no se no se non chiedono più che la pezzo di no dai poi è la ritorna rita popola stavo vederla singola nello sparo è tanto fatto dopo mi aveva rito alis commentatrice rip carlotta carlotta parla parla i ragazzi che li tolgono i soldi alis a prima ragazze tipo attenzione legge da pazza e niente a disse esclusiva di telegram continuano ragazzi è fortissimo il gesto non è che quello che usi per piacere a un'altra potentissima quando parla in un locale c'è andato c'è andato a lui non interessa e si ne va trappola trappolina della morte meglio di te kirenis che cosa grazie ragazzi voglio bene ha detto meglio di te kirenis penso che c'era che è meglio la ragazza che è vero ragazzi che ha rotta maggiore di tredis ah si gioca meglio da buon bronzo posso dire che ha riscritta sicuro che brutta fine sta ragazza scrive sempre che brutta fine si chiama cioè è un idolo i ragazzi inizia a donare pure a brutta fine io sono così che soltanto la fine brutta noi salutiamo tutto salutiamo il nostro gruppo di telegram ragazzi salutiamo il nostro gruppo di telegram è sempre presente a questo streaming veramente un applauso ciao balter il nostro filippo 118 418 ti scrive team ben delicato team blue team manutagli che oggi riesce a ma magari se ne va se ne va start 10 lo Alice no ragazzi queste cose non succede infatti perché ha fatto il giro che l'hai tornato di nuovo dentro arriviamo arriviamo non lo so se da me sta a giocare come con te con joystick se vedi i video tuoi arriviamo ragazzi dobbiamo arrivare a 500 però ti sto a far fare i soldi e punto non ne devi mai uscire noi torniamo a strumento sul team red in modo per entrare in questo gruppo sul nostro gruppo di facebook devi chiedere te lo spammiamo ragazzi vi spammo i miei link ah scusa e li spammo tutti questi social eccoli qua e poi tempo e poi tempo e poi via la buco chiede lui rimane di la chanelatele e ora e a dare a dare a dare molto gentile quel clade però quello fermo perché ci vediamo ma ricordato una mica tutte grazie ovviamente la risposta che è scritto non ho letto no 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 me sa che il ragazzo che ha chiesto come tra il gruppo vedete io pensavo c'è stata ma no invece non c'è stava fra ma nico hai visto siamo bravi si è spostato la webcam nello spara e dottor jekyll e mister hyde nello spara senti più intanto domani se lavora gratis arrivano vai 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 attenzione capro valo ma sto video poi va su youtube no ragazzi questo penso di no questo veramente un premio a tutti voi che si riunioni comunque in live non hai risposta a me non ho letto attenzione c'è un ragazzo dietro tanto fai danno top c'è l'orgasbi 96 buonasera dopo uscire a caso non lo so se ne facciamo un altro ragazzi vediamo vediamo è tutto in forze perché noi siamo invidati al compleanno dobbiamo no però dipende quanto ci mettiamo vediamo è indicò ma è delicato via le rom in questa partita mi sono perso pigliatelo pigliatelo regà non riesco a leggere la chat siete troppi regà ma io sto morendo pure io sempre qui ragazzi è vieta fidex 95 pretendo che vada su youtube lol 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 ma sto varus si chiama settentro settentro a e si chiama legato o donno e se ci chiama l'imbroglio se ne va se ne va o Charlie ma o però la porta di vittoria fai voglio fanno il fario guarda ragazzi mi esplodono lello o i danni dell'ello ragazzi ricordiamo che abbriaco non sa di essere spettato ragazzi 29 a 13 però sembra non lo so non lo vedi tutto sto vantaggio e insomma ragazzi più importante che andare a mangiare non abbiamo mangiato il nostro drago rosso ci scrivete bravo streamer e orgasmatico stieghi di sciacche ragazzi il bronze time è mai fatto e io ragazzi non so non so se lo dite attenzioni signori e signori siamo primi su twitch italia di league of legends e ringraziamo di agor rosso che ci ha scritto sono stati questi bronzi ragazzi almeno a 450 invitate gli amici spammate almeno a 450 ma 4 80 sariamo a 500 ragazzi se arriviamo a 500 ne mancano 22 ragazzi trovate 22 trovate 22 disperati che vengono a vedere se questo scempio intanto già ma perché gente esce da texture gente nuova skin un cast così o più grazie siamo quattro e ricordi che a me me si era buggato nelle due trecento ancora continuo avanti saremo a 4 e 50 ma io pensavo che era venga già una donazione attenzione 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 uno euro no perché ricordi quando tornavo 100 euro che che stavo live con patrizio e poi ci sarà uno euro 100 euro nemmeno inizia da orla inizia a dire comunque se ripenso a quando faccio i video sulla top place e riguardo a quel punto sono fiori di mare non vi essere stato non c'è amico non chiamiamo a fare grande ma pure la pirezza ragazzi uno contro uno da fermi sono lo spettacolo migliore non stai quello che abbiamo da 500 uno contro uno starsky vs caretta oddio vai c'è sta arriviamo a 500 uno v1 starsky vs caretta ha detto che nulla può fare non è vero non c'è non c'è sta arriviamo attenzione continuano a morire arriva glad si sente da lontano buonasera bonobo attenzione guardano mi spieghi ti ha detto bonobo bonobo vabbè mi sono sbagliato oh xin oddio che scala ha risparmiato metto centimetro con quella e raga perché voi si mette in pausa la live in che senso starsky vs drago rosso lisin vs lisin 2 l'altro lisin 4.94 ragazzi soltanto 6 per me te sta patrullando se me stai patrullando e banno sei il primo bannato nel mio canale non è mai stato 4.95 se sta pia per culo erano uno più sono comunque al tarento oro di cannare tutte le ultime allo stesso modo bonobo è una scimmia 500 500 500 ragazzi fai di stampa 1-4-1 il prossimo bronze time da ubriachi il prossimo bronze time da ubriachi a 600 a 600 ragazzi regaleremo una macchina di ma quella la ricamminava al trenta minuti fate urlare vincenzo 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 la baronne 500 un nudo avevo detto talmente tanto avevo detto talmente tanto che non si piega mi dovete fare la pompa dove asciugare l'avevo detto talmente tanto che il cavallo K500 te ha andato a tutte le mie ex a chiedigli scusa sa buono oh best time bronze no non riesco poco più a leggere maronne per caso ci si dà lo string che ha lo string? so come quelli quando c'è tipo mille like e zero di strike sono appena entrato nello streaming che è succedente 54 raga non c'è fermato più io so curioso che vedete una cosa a chi non lo conosce magari qualcuno è stato con il team red che è tornato in partita guarda i gold guarda i gold ma è l'ora che il team blue sta a vantaggio questo è bronze time ragazzi io voglio vedere una cosa so curioso vedere una cosa no mi sono sbagliato fate zitto aspetta ragazzi no marnaggia questo siamo secondi su tutta twitch italia qualsiasi gioco qualsiasi stream un applauso a starsky un applauso ragazzi recuperiamo il primo ne mancano 82 mila ma è così noi ci crediamo non succede ma se succede mi sa che sono stato il 500 e ho preso troppo e ti dio 500 chi ne si fa bussare i virus da starsky ma non è vero al contrario ma perché non hai pubblicato un video su youtube che ha visto ma come no ma come no ma ancora supprimato no no io so ma l'ho caricato che non arrivano i feed l'ho caricato ragazzi il fight guarda l'ulti di zona ma che faccia lo lasciate là è partita è partita è partita è la mia è corinfo è corinfo lo fa lo fa oh jackson si aspettava mi ha detto te lascia oh regà jackson fermatelo regà jackson io grazie a youtube sono qua ma non stai followando lo streaming ma non stavi fottendo che è stata a dio che è stata a di sta schifo mi piace le metropolitane sono bellissime voglio più le mie ragazze non ci fanno mi guarda la trice del canale si chi ha fatto mettere l'altra volta ari gli piace combattere nella base esplode poverino era partita bene ma è cosa no era partita bene io sto a leggere una cosa ragazzi è stato un vecchio che è lì spuntato mi dico sbaglio che bravi commentatori per regare nell'LCS ragazzi quelli ci spicciano a casa perché noi tutta sta cosa tutti e tre qui mo metto la webcam tutta sta cosa con l'occhio chiudi aspetta e dopo non vedo come tutti e tre dopo una giornata di lavoro stiamo a fare sto casino avete capito 534 viamo tutti c'è l'amore ti scrive meno male se è vista amica webcam che c'è vicino sento la voce maschile strada chi è è il grande un ride ragazzi seguito su tutti i tuoi social anche su anche su amazon ragazzi mi raccomando telegram cucurazione che è la prima calma devi calmare che è successo che è successo sono ha beccato la sua prima ulti in assoluto sono piena di lei ha beccato la sua prima ulti meno male carlotta ci pensa un po' più incredibile e c'è l'iphone vai schiaffa rispetto per grazie dopo 32 minuti a solo due morti ragazzi e te obbriaco vogliamo il primo posto su tc italia pigliamocelo pigliamone mancano soltanto tu mi la rega non vi preoccupate se va qua ragazzi si butta un carlotta parla scrivono ma guardia ma carlotta parla oddio ha parlato ma come lagga l'eroe quello quello mid noi ce l'avemo aperto è mutato è mutato pigliatelo ormai stavo addigoserando non siamo più a dire il dodge di quest'area ha risparmiato molto però facendo quel salto scrivono carlotta e non non è l'insalata di capodanno dalla chat non so che ti ricordo la attenzione sempre così bello a ripunta al perfect score morti uguali e sta provando è già se non sono fatti sono fatti se lo fa primi su twitch italia no no primi su twitch italia league of legends su twitch italia in generale i secondi vanno ogni tanto fa laggare lo stisi quando metto i con amico sbagliato ripali starsky sei primo come fa a perdita se siamo primi ragazzi attenzione guarda i gold noi mettiamo votato nico voi per il blu io e nico per il rosso starsky stiamo streamando il torneo su twitch idomafia che vuol dire non l'ho capiva ragazzi è un gioco a spaspa ma qua rod tu primi nel mondo vai rica superiamo come si chiama quello stream a sea più di pi chiudipi 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 ma infatti era quello il senso se mi dicono che alla grado è quando metto fa tornare chi ne mi surli a buffo così non sei salva ma se sei salva e perché si torna l'autopatting voglio gestare chiudipi ai miei chiudipi starsky fate fare che la da vincenzo 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 che c'è tu adesso hai visto che crede tu non lo vedi ma crede ce l'ha colso team 568 ma siete seri fatelo c'è il baron oh me sta a perdere il baron scusa niente gli ha fatto bene gli ha detto di a brindare facci il discorso di crede per riprendere sta partita oh vai fatti le succe da ora che cazzo dico chi è che sta spammato il facebook o maiale ragazzi ti sta guardando lo streaming donate 100.000 euro 100.000 euro chiudono stream e me ne vado non vi conviene non vi conviene oh beh ma sono persa scusate sto mostro che mi si è fazzito attenzione ci va l'ultimate preventiva dai ragazzi non potete perdere sta laggando ecco qua ragazzi so strozzo so strozzo so strozzo cled è rimasto da solo da giù non c'è il twitch bot che gli è spammato solo lo fa manualmente ragazzi c'hai ragione si blocca cazzo vedi ragazzi lagga quando io metto i gole non lo faccio più guardate mo non sta più con e lo sto a vedere che non sta a lagga ero più di mille mila e certo ma infatti lo so io lo dico sono il primo stream io dico ve lo faccio lagga io non è che lagga è che tabba è che tabba sono strozzo sono un tabbo più giuro ma come è che tabba tabbo sto dai per spostare schede e ste cose qua vedi mo che buono se non mi hanno cazzo in te per te lagga Alice mi ricorda che ho fatto 3 euro più di porn che lagga lo faglio di tutti offro io grande il piromane grande stasera insieme a noi a comprare i stitch il piromane il nostro eroe sta perdendo sbaglio tabba non tabba tabba attenzione ci va la ultima più corta che abbia mai dito sono sofferto sono sofferto lo prendo no che devi da stroppolare il frattempo oddio lo l'ho fatto oddio l'ho fatto oddio l'ho seguito no se mi rilassi se mi rilassi se mi rilassi vogliamo chi di Ennis ah no Kled Renis vogliamo vogliamo Kled Renis ma va tal contrario Vincenzo dove va come è stata in merda ma che cazzo è vai vincenzo oh scarro no la stiamo a tutti sappiamo che l'ottimo bros time perché le chi le hanno doppiate i minuti chiedi a Vincenzo se mi chiedi con manone chicche Manu se vai a San Lorenzo aspettiamo che arrivo sto da arrivato eccola stiamo a San Lorenzo all'era ora ragazzi stasera alle 10 e mezza stasera all'era ora alle 10 e mezza era ora che ci stavamo alle 10 e mezza tutti a San Lorenzo stasera all'era ora capo non spettiamo chi mi ha accato ma il bros time spettiamo dei bronzo 5 chi l'ha scritto chi l'ha scritto chi l'ha scritto stasera già i commenti oh Vincenzo legge pure i commenti sta a schillare stavo il cellulare oh attenzione ce va ce va oh oh ma non c'è oh oh rip oh che culo mamma mia giuga a casella può accompagnare questo non muore ma che c'ha oh lo team blu ai 10 e 30 tutti a scampia tutti a pagare a pregare a San Lorenzo Led Renis ma suona che è shot Ari ecco una Q ecco una vita oh oh è lungo Jax che guerriero Ari Ari che brutta no Ari è l'eroe nazionale facci sentire Carlotta fate un secondo brain time non lo so ci dobbiamo pensare la vedo tosta no stavo metta a bapa e vede coreana non lo faccio 9 se potrebbe quasi fa però vediamo a sorpresa vediamo come va vediamo se una leggenda a bestia di osatana stoxin siamo a 551 più versi sto sbizzattendo sbizzattendo ragazzi 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 niente siamo a 551 guidiamo l'attesa 20 e 57 ma non regalo ho visto voi state in ritardo con streaming ho visto moda mesolè tu hai detto 20 e 57 eh no pure a me non è possibile 20 secondi ma non ti aspetti Carlotta ti amo cacco da 99 ma che è la ragazza chi è cacco da 99 vincenzo mi mandi il cazzo in chat lavori ci diranno eh si vabbè un show grande moon ragazzi 46 a 40 soltanto mille gol di differenza che stanno per essere per essere raggiunti perché eh no c'hanno siccome Ali è passato di moto ora partiamo vai ragazzi partiamo dall'azione e fanno uscita a Carlotta Carlotta è Carlotta edizione limitata e privata ciao nefasto adesso chi deve essere maria ragazzi vincenzo inizia a vedere i venti all'azione e l'esce l'ultimo no vabbè si avrà sia volta a fare se parliamo dell'azione di starsky allora si ciao zio spada chi ne ne esce esce i balti ciao Carlotta ti saluta una certa jbunny ciao jbunny donate scrivono voglio la maronne nessuno che gioca taric che schifo dove andremo a finire ah Carlotta quali ragazzi wolf il lupo tu sta dove sta se te il compagno wolf il lupo tu sta cazzorini cazzorini non mi toccare non mi toccare non mi toccare parola e gelosia ragazzi potrebbe essere l'ultimo non avete idea non avete idea serio è gelosissimo oh ragazzi ti prego ma che dici ma cosa dici ti fa in bocca la sua volta a casa di vincenzo fagli pure le accuse che ti mena queste cose qua quello in diretta Carlotta no questa la leggo però faceva rima però faceva rima se Carlotta donasse a star che ora sarebbe la eh l'ha già fatto ragazzi già gliel'ha tirata sta meme ha donato ah non solo una volta tre volte ha donato Carlotta unico dio i veni sgeloso taricchio ma è finita sta partita il grande pasca dov'è finito Baltier ragazzi ma che volete da Baltier che c'entra mi sa che sono nuova chi è Carlotta è la ragazza finta di Vincenzo che io erbe riceve nel Golden Cup non funziona sta cosa ragazzi se la prima partita è l'ultima Carlotta grazie se la prima è l'ultima Carlotta grazie che è gelosa attenzione perché parte il fight si incontrodutti ma che si tratta perché la gente è così tratta una torre si sta in paura è l'ubriacone no caga suono è il delirio è lì adesso a perdere il delirio è rimasto in tre yarda fino alla fine auto what do you mean c'è ancora tempo di fare lo scazzo non muro non muro sta lì che sta l'inversione guardare ciao 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 noi stanno due che revista non meriti Carlotta ragazzi indelicato ragazzi ci hanno appena spoilerato non lo fate più ciao aereos nico ci hanno appena ci hanno appena spoilerato che che lui sta ancora in un'adorazione capta nico Carlotta esce che cazzo stai a farlo è scogliore la cazzo c'è ragione ho messo icona raga ho messo icona per vedo donazione scusate non faccio più raga le ha uscite nico hai pagato un euro per far uscire le dette di Carlotta a Kirenis cioè nico era un'ora che stava al telefono ho detto a me starà schivata male attenzione è flash l'ultimo e poi gli è girato ridete perché altrimenti ha speso un'ora no però mi hanno detto che sta ancora il messaggio della carta che io ho sgamato in che senso non ho capito perché non ci sta la web perché non lo stai a me che è stato perché non l'ho ancora vista l'avete stasera l'avete stasera ragazzi stasera amassi storia sulla storia di instagram vincenzo è scoperto vincete mi fa what do you mean a ogni donazione dicono ok però voi urlate quando donano eh c'hai ragione però steccate what do you mean sono arrivato tardi si xander mi dispiace invece no sei ancora in partita guardalo questo qua guarda vincenzo commenta commenta la commenta vincenzo vai vai figlio di troia mi sento tutto ciao captain corstino dove lo pingano vai vincere vai vincere 4-1 figlio di troia non mi serve un po' esagerato mandagli è così confuso sul pover bulldare zinn che cazzo si sta a bulldare veramente è confuso dicono che il mio modo per combattere la gelosia sia rasarsi la testa ma chi può dire ma è seria sta cosa queste sono come gli studi scientifici ma fai leggere il gianto di una delle notizie di una notizia no dico questa legge non ho capito me la devo rasare io la testa così non mi si caca più nessuno non esce così funzionerebbe no forse è che diventa nazista lì c'è allora ogni volta il club di meno devi doppiarlo stai pronto sono le nove di sera mi ammazzano dai ti preoccupato tu nonna capirà rega rega ma che cazzo non senti manca se l'euro del legge che finisce mai oh oh e niente oh gli hanno tirato tutto ma quello che sta a fare addio oh guari il nostro eroe se ne va e poi se ne va li attira li attira e poi ci arriva e poi se ne arriva no oh zonia la zonia fa fence contro qui ho capito zinn è il meta il padre di a Vincenzo mi ha scritto non meschia com'è finita cosa dice Carlotta è più briaca di Kragas ma lì c'è lì c'è oh oh l'ha lasciato vive che vi serve che succede niente quando c'è sta cosa che fine del cazzo hanno fatto che brutta fine sei voluta dare che non ti aspetti ragazzi ragazzi io non ho più voce io stasera oh l'adorazione non sto qua ho 20 euro pure che cazzo fai che cazzo fai non arrivi 20 euro stai qua ma non farti i panini ma che cazzo te doni ragazzi tutti ma che hai scritto ragazzi ma vedete il video capitano esci le diamo ragazzi sti due stanno a donare sti due te fia a me e poi mi richiede ma che non lo so attenzione è morto sto credo 145 quando sì ma piccola poi si chiede carenze per carota di gelose impazzisce non è la fine ma dove tutto esordisce se carlotta allora prova gelosia per le altre donne no infatti vincere i fau 2 u mini che hanno tornato intanto ora ho piagati voglio io mi ho fatto decimila volte ragazzi non potremo mai dire ne va il nostro onore best bronze time era grazie terzi con l'acca sì perché ho tabato un attimo e vedate un'azione sto marus e le ultime non sa cosa ma perché si sono i team divisi i ragazzi quando quando a tab per vedate un'azione lagga un secondo quando vedete che non donate oh è vero c'è un zoom postato scusate oh c'è stanno approvato no scoglista 100 100 kill stiamo a 100 kill precise siamo a 50 minuti quasi grazie capitano si anche io ho provato a salutar tutti manuel escile primo bros time in live grande prima carri c'è sempre una volta questo potrebbe essere la fine potrebbe essere la fine che cazzo non è attaccato questi uscitele tutti famo prima mamma mia il nostro eroe ragazzi il nostro matteo è pure l'eroe dello scorso stanzo che sta facendo c'è pesce ho letto alzate le mani per il suolo oh 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 Yasuo è arrivato nel giro si due vado a tutti c'è la gi arriva vai vince tu e tu vince vai e che cazzo devo dire tardi non posso orrare guarda Sara come se lo fa è abbattato da una tona Sara nel dubbio ci trovo guarda ma il eroe eroe vabbè mi sei scusano team bella Marco ragazzi niente ci sta a provare ci sta a provare 105 kill 105 kill ci possiamo arrivare Tirenis fammi credo in live please ho fatto tanto quanto non ho più voce ma hai detto a Carlotta che sta lontana dal microfono no sta qui vicino però non parla parla ciao non caccio da dire ciao non sono in pace voi vedi gli youtuber io faccio i cazzi miei capite sei messa con Tirenis sei andata a casa sua e mo ti tocca dici è colpa tua e me la so cercata c'è ragione pure te oh 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 c'aveva la zonia cioè vi rendete conto ragazzi è venuta Carlotta qua da Roma e noi stiamo aspettando il bronze sign Carlotta da Roma è andata a casa di licenza e non gli stava a far aspettare guardare chi le soldi 52 53 98 a 93 di con se legge oh la braga è la trafola o l'ha vista un bria dottone ma gra che ha saldi hanno sempre cazzo in bocca ste donne no oh no ragazzi di licenza no ragazzi di licenza no ragazzi di licenza raga raga guarda chi è è giusto guarda la vita mia guarda la vera ma non è la mano tutti quanti che strontz dime da notare i ricchi gialli sono così grande vincenzo grazie non era stato la vita mia quando il caccietto era l'ultimo dai sono appena arrivato ciao i pymel mi sceglierono sempre che brutta fine ha scritto una cosa che non era che brutta fine è successo ragazzo nasa naso che però attenzione adonazione da un attimo vi adoro mannaggia grazie da ormai non è più il guerriero di prima non lo riconosco ragazzi qual è il tipo che vince guarda stare con i movimenti orizzontali ragazzi ragazzi e ragazzi qua che ha scommesso su detto dico dico batti cinque dai e vincezzo sempre non voglia vincere carlotta cosa ne pensi che sconfitta che tu volevi che era detto in blu non so parlare è andata così grande commento allora ma se al posto di cosa di marone diciamo marlotta elisa esce il figlio bellus tu nexus vincese pronte a questo 1 1 prima di chiudere lago guarda 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 tutti s perché vincenzo è stato stuprato leggiamo un po la è bello sto bronzo commento tecnico chi non si faccia marone di chi live allora le faccio uno che dura tanto fino a che non finisco il fiato ok fai è finito presto che erano molto fiato sono prodotti l'attima vincenzo sta a morire ragazzi io intanto benissimo di nuovo nei social ti ricordo che se vi serve un aiuto con la configurazione movibus anche a voi un attimo allora questi sono i miei dei pc più potenti del mondo e ci stanno e murride che oggi si è lo possiamo dire oggi si è si è sciopato un pc da fk e abbiamo invitato l'ospital bronze time solo per quello solo per quello ho dovuto spandare il moto e niente ragazzi seguite anche murride su triccio ovunque pure nico e muwolf secondo bruce time se volete la 1v1 spammati in chat ma calma di vero è tanto di la i panini ci aspettano i panini ragazzi noi dobbiamo scappar san lorenzo che vogliamo fa solo per gioppo ragazzi fermi allora mi lascio anche la mia mail cos'hiamo fatto devo spammare più niente ragazzi meglio picci smerciati di quel di là li prendiamo al mercato nero noi il mercato del mercato nero nel senso fatemi leggere un attimo sono carichi questi bronzi ai nostri adegarnotta ma non è di a vincenzo che è solo perché si è messo contro il mio oggi non gli faccio la beta test per dei wiki come ho fatto per chris me che non è un spoiler leggero legge il messaggio incenso vediamo si ricorda me e mi dico guarda che ho fatto fare il vento a testa per il che agente però spera come si chiama ma spedite anche i prodotti si in tutta italia comprese le isole mamma mia scrive direttamente per qualsiasi cosa mi vuoi scrivere direttamente qui stava spam a facebook che scriva da zucca perché il tente qui ragazzi che vogliamo fa che vogliamo fare uno andiamo tutti a mangiare dai 1v 1 d'attimo tutti a mangiare non posso fare uno più uno proponete come il primo vai però il mio picco a mille di farm vince più a famiglia di fare un'ora di partita allora le regole sono queste ad ogni miglior missato da canelli si deve fare ricca con testa tutti sm di quanto picco fisso aspetta c'è i 60 dei ping scuse sono a 3 49 un'altra connessione ma a meno giochi bene ragazzi vincenzo se sta inventa tutto vincenzo non fa la parola vabbè ragazzi dai abbiamo da fare dai hanno da fare c'è la ragazza che vuole io non volevo dirlo ma insomma ma nico queste cose ne fa quindi non capisce se ne dici palesemente braun time ok si divertente muccia dai la pasta rete dai non fanno così se canelli svince la uno contro uno allora compreso nella bombata la dolce la dolce sarà is now hosting you detto così c'è sembra dolce è proprio dolce l'abbracere adesso che fossi amico e tu fossi qui rimaniamo due minuti a rispondere alle domande ci mettiamo una scena con la figa con le con le sedie eccoci ragazzi allora ragazzi fate dai carlotta ripigliatelo ragazzi con soldato 76 oggi ospite speciale ridi ma ragazzi mo lasce scarlotta scarlotta pingone 53 snow hosting you stata a mettere gli host e non streamate mi è stata a pia per culo regà istan flash counter ciao cuscolini chi è quello dietro è moonride è voluto a scioparsi oggi un pc fk la gli abbiamo detto fermati a cena con noi esatto dai che rani grazie di tutto ragazzi no ragazzi grazie a voi grazie a bellissima serata vi amo e noi ci stiamo a dare una ragazza per nico l'ha trovata ragazzi ho caduto quanto dura grazie manuel manuel 73 salmon totali che cazzo è oh hanno fatto il conto dei salmon son folli domani streammi domani streammo un pausa pranzo dall'una alle due e mezza allora ragazzi noi siamo tutti e tre fidanzati e uno dei noi tre ha ricevuto un messaggio su tinder sta a voi eh 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 qua io ho visto uno dei noi tre non si può di chi nico io su tinder non c'è la corrispondenza da da non so quanto faccio un maronne basta si maronne ragazzi scaricate mi raccomando basta scaricare tinder sarki adesso chiama la ragazza di mura e dice che ha trovato sto telefono per terra no se era una femmina faceva ridere ragazzi io vi lascio un po' di facebook chiamo una ragazza dica che ha trovato il telefono per terra no no fermati la chiamo e gli dico col telefono sua no gli dico sao senti sul fratello di sara lui ha lasciato qua il telefono a misorelli tu regà famo litigavo un ride in diretta no no voglio dico sa pronti il silenzio fa più effetto pronto? scusi mi sente? eh praticamente era l'ultima chiamata in sulle recenti non so se lei conosce il proprietario del telefono conosce il proprietario del telefono? eh sì perché lei era l'ultima chiamata fatta ecco perché ho chiamato lei scusi ah ok perché ha dimenticato il telefono qui a casa in camera di mia sorella e niente l'ho trovato adesso solo che mia sorella non mi risponde allora ho chiamato l'ultima l'ultima persona in lista ah quale sorella è l'ultima chiamata? sara perché? ma penso che siano amici non lo so però non mi risponde no non lo so cosa? ah quindi io no perché? ma lei lo conosce il proprietario del telefono? perché non mi va non mi va ad andare da carabinieri o cose del genere a portarlo no guarda lei vada da carabinieri eh perché devo andare da carabinieri? scusa dìglielo che non scherzo Mabel basta eh ma perché lo devo portare a carabinieri se la riconosce? basta Mabel poverino perché perché lei faccia così ma lei chi è? io sono il fratello di Sara chi ha? eh ma l'amica ragazza di Dario non so come si in che senso? ma chi è i carabinieri lecchetti del cognome? ma come si permette? scusa la bronzocina ma che basta poverino dai vai giù mortacci tua ma che ti stiamo a fare davvero? ma che cazzo stai ti stiamo trollando se non stessimo stata abbronzata male in diretta ma che stai guarda qua ma che stai andata stai a morire stai vabbè io lo sai che c'è è una bella di sofferenza guarda che Sara ma li porti benissimo non ti do più no non è portare bene sembra ragazzina ancora cioè all'inizio mi pesava un sacco poi io salto pure 1,72 quindi so pure basso e col fatto che ne dimostro pochi e so pure bassino e giuro sembro ragazzino ma ma che stai andata e